In un momento di grandissima difficoltà, in un momento in cui la sicurezza è una priorità per tutti noi, una priorità per le famiglie, una priorità per le aziende, la nostra proposta è quella di agevolare l'infrastrutturazione dal punto di vista della sicurezza, quindi della sorveglianza, del sistema di allarme e di tutto ciò che poi oltre a proteggerci aiuterebbe le forze dell'ordine in caso di violazioni del domicilio o comunque in caso di furto, noi proponiamo che tutto ciò venga detassato in modo tale che le famiglie possano sgravarsi dell'onere e di mettersi un po' più a riparo e a sicuro dei tanti criminali che purtroppo sempre di più stanno minacciando la nostra tranquillità.